Io e Vanessa in missione, 3, 2, 1, attenzione Il coccodrillo come fa, papaparappa, non c'è nessuno che lo sa Papapara, si dice, porca miseria, bene amici di Play TV, sono, occhio al microfono Ui, ciao Mela Amici di Play TV Devi fare il tuo qualcosa Attenzione Bene, grazie Allora amici di Play TV Non sputare però, ragazzi sta sputando No, no, la sabbia no, ragazzi, no, no, la sabbia no La nostra amica Nora, fantasticissima Non è stata Nora a sto giro Io non faccio la spia Chi è stato? È stata qualcuna ma non dire che sono stata io Bene, siamo pronti per... Vai Vane, continua tu, intervista Non lo farei mai, caro Come ti senti tutto bagnato e insabbiato? Sì, molto bene, abbiamo fatto il torneo di Beach Volley con le ragazze Gwen, Nora, le mission Vanessa Quanzino, mea Ubi E qua siamo un po', abbiamo un bel piede Un bel piede, certo Un 38 barra... 39 Ma io direi un 37 e mezzo non ti fa ringannare C'è un dordizzola, infatti Allora, ragazzi, parliamo di canzoni molto coccodrille Come fa il coccodrillo? Il coccodrillo Oh, come fa? Pa 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 Non c'è nessuno che lo sa Ti lo sai solo te Bene Vanessa Ragazzi, io direi di salutarvi e alla prossima Ciao 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 Ciao